selvaggia lucarelli ha espresso solidarietà a chiara ferragni perché ritiene che il marito la stia danneggiando ulteriormente dopo gli scandali degli ultimi mesi la giornalista 49 n è intervenuta via social dopo l'ultima puntata di muschio selvaggio il podcast di fedez in cui quest'ultimo l'ha attaccata dialogando con marco travaglio direttore del quotidiano con cui la lucarelli collabora dopo la messa in onda dell'episodio selvaggia che è stata la prima a scoperchiare il caso del pandoro balocco che ha portato la ferragni nell'occhio del ciclone ha scritto sul social solidarietà a chiara ferragni che pagherà centinaia di migliaia di euro tra consulenti legali e task force per poi ritrovarsi accanto un tizio che invita nel suo podcast marco travaglio convinto di a tendergli un'imboscata di possedere dialettica e cultura per poter uscire vincente da un confronto con marco travaglio anziché bofonchiare paonazzo per 40 minuti però selvaggia e cattiva poi dice che lui sal se ne è andato per non reggergli il moccolo strano poi ha aggiunto ci convincere qualcuno che il problema sia la storia dello squalo e non il pandoro di convincere che davvero lui si ponga il problema della protezione delle persone più fragili sul web quando ci mostra i suoi minori dall'ecografia in poi e nelle situazioni più intime private e ancora e avere accanto capezzone e giudicare il mio giornalismo anziché quello di libero e di capezzone ricordare i meme e gli sberleffi di capezzone su murgia e saviano le frasi infelici sui migranti su bellanova sulla teoria gender o di quando scrisse che il carabiniere raga era stato ammazzato da due nordafricani gli pareva brutto vuoi mettere l'ennesima puntata sulla raccolta fondi e lo squalo infine l'ultimo punto f tentare in vano di delegittimare chi gli ha rotto il giocatolo io non rendendosi conto di ridicolizzare se stesso e cosa ancora più grave far ridicolizzare dai suoi ospiti sua moglie che in questo momento non ha bisogno di altri danni reputazionali ps e il bello che il suo ego gli impedisce di capire che forse non sento proprio l'esigenza di andare a confrontarmi sulle mie inchieste con lui per me è un fenomeno non un interlocutore ma poi travaglio lo ha chiamato lui ha fatto tutto da solo ha concluso grazie 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 grazie